Ci siamo! Da oggi 21 maggio 2020, ai pub e ai ristoranti è data la possibilità di riaprire i battenti alla clientela, non più solo servizio di asporto e di consegne a domicilio, ma la possibilità per tutti di potersi accomodare all'interno della sala e consumare come ai vecchi tempi. E se la maggior parte dei locali ha deciso di posticipare di qualche giorno l'apertura al pubblico per potersi preparare al meglio al rispetto delle prescrizioni sanitarie di contenimento del contagio da coronavirus, c'è chi si è fatto trovare pronto al primo corpo ed ha subito riaperto. Come il ristorante da Pirozia, Ischia Ponte, tra dispenser di disinfettante e linee gialle tracciate per terra per garantire il giusto distanziamento tra i clienti, la ciliegina sulla torta nel rispetto delle norme è rappresentata dalla misurazione della temperatura a chi mette piede nel ristorante. 46 minuti, ottimo, si può accomodare. Grazie. E con le nostre telecamere siamo riusciti persino a filmare il primo cliente che sull'isola di Ischia, terminato il lockdown, ha consumato la pizza a tavola. Il primo cliente oggi ad assaggiare la pizza, in questo caso ci troviamo da veloci. Qual è la sensazione innanzitutto di essere ritornato al ristorante? È magnifico, è indescrivibile. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare e ritorniamo con più voglia di prima. Poi è vero che in quarantena abbiamo imparato anche noi a fare la pizza, ma certo non è come mangiare la pizza fatta qui e non è come poterti gustare anche il panorama. Sono felice di essere ritornato di nuovo alla vecchia maniera. Buon appetito! Buon appetito!